Obiettivo minimo già raggiunto, i prezzi dell'eurozona hanno smesso di andare giù. Finiscono dunque gli alibi per rinviare acquisti e investimenti che hanno alimentato negli ultimi mesi il rischio di spirale recessiva. La variazione dell'area della moneta unica, come quella dell'Italia, è a zero ad aprile su base annua. Rapida è stata la risalita dal punto più basso toccato a gennaio, grazie prima all'annuncio e poi alla messa in campo da parte della Banca Centrale Europea dell'Arma del Quantitative Easing, che ora deve continuare la sua opera riportando l'inflazione attorno a quel 2% livello dove la posiziona la missione dell'Eurotower. Se sul fronte prezzi i segnali sono quelli auspicati, su quello del lavoro no. Il tasso di disoccupazione è risultato fermo all'11,3% a marzo. Peggio fa l'Italia che in barba alla partenza del Jobs Act vede crescere quello interno al 13%. Tutt'altra storia in Germania dove i dati dei centri per l'impiego di aprile mostrano un tasso stabile al 6,4% con una diminuzione ulteriore dei senza lavoro di 8.000 unità, il dato migliore dal dicembre del 1991.